Ieri a Roma il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo, assieme al Presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, ha incontrato il Ministro dell'Ambiente Fratin per parlare della questione vincoli sul Gran Sasso. Il Ministro ha preso l'impegno di monitorare l'applicazione del provvedimento e le soluzioni per garantire l'adeguato sviluppo dell'area territoriale interessata, senza ledere i legittimi interessi delle popolazioni e delle amministrazioni interessate. Un primo confronto quindi per parlare del provvedimento che la Giunta regionale ha approvato il 28 dicembre, che riguarda nuovi vincoli ambientali che potrebbero avere un impatto molto negativo sullo sviluppo turistico del Gran Sasso e del territorio aquilano. Ieri siamo andati al Parlamento italiano ad incontrare il Ministro Pichetto Fratin, che è il più alto vertice del Ministero dell'Ambiente, per interessarlo e porgli la questione del Gran Sasso e dell'applicazione della delibera del 28 dicembre. Il tema è sicuramente spinoso, è delicato e non ci sono facili soluzioni. La delibera prevede la trasformazione di tutti i SIC a zone di conservazione speciali. Questo farà sì che ci saranno delle norme molto più stringenti per lo sviluppo del territorio, ma anche per la tutela e la salvaguardia. Si prevede anche il ripristino dei luoghi e degli habitat, non perché le cose non debbano vedere la salvaguardia ambientale, ma bisogna anche tener conto di territori antropizzati. Dal Ministro c'è stata un'apertura anche venire nei prossimi giorni, appena approfondito questo dossier, nella città dell'Aquila per discutere insieme a noi e a tutte le istituzioni locali di quello che si può modificare e di quello che si può fare. Certo, così come è la delibera, dobbiamo vedere anche nell'applicazione, perché le nuove vinca, che saranno vinca più puntuali, più precise, che sono le valutazioni di incidenze ambientali, dobbiamo vedere che cosa comporteranno nell'applicazione e capire dove modificare per rendere un pochino più facilitante per le persone che vogliono fare impresa, investimento, l'approccio invece con la montagna.